Di che cosa sei più orgoglioso in questo 2013? Semplicemente la promozione Serie A, perché era una cosa che ci eravamo augurati, posti, quindi credo che sia stato il primo passo per poter accedere a quello che oggi è più o meno l'unico modo di fare calcio, cioè la Serie A. Hai un proposito per il prossimo anno? I propositi sono sempre quelli di migliorarci, di avere la possibilità di crescere, di far crescere un settore giovanile, di portare avanti un progetto sociale, di portare avanti tutte le attività che stiamo facendo e quelle che non stiamo facendo ma che si possono fare. Quindi credo che sia determinante avere la mentalità di gestire una società di calcio come una società qualsiasi, nel senso che deve avere delle affinità che non sono solamente quelle sportive ma anche delle altre. Quindi nel mio modo di operare, non tralasciando sicuramente la parte sportiva che ci mancherebbe, ma anche dare questo tipo di imprinting alla società, credo che faccia parte di una cultura un pochino più internazionale. Ecco Presidente, hai sempre parlato moltissimo con Sean Sogliano, ci stai parlando di più in queste ultime settimane? No, Sean ci siamo parlati quando giustamente era il momento di parlarci, io credo che lui è una persona corretta come me, quindi credo che se dovesse c'è qualche cosa ne parleremo in momento giusto. Oggi ci dobbiamo preoccupare di quello che è un momento, che è il nostro momento e credo che comunque il fatto che, come diciamo così, tante volte vengono riconosciuti i meriti i nostri giocatori, il fatto che il nostro direttore sportivo sia stato comunque messo nella lista di un grande club italiano, ma direi mondiale, vuol dire che abbiamo lavorato bene e voglio dire che dobbiamo non esserne solo che orgogliosi, quindi dopo tutto il resto si vedrà, ma ripeto l'Ellas comunque va avanti, non è un problema di chi c'è e chi non c'è. E' premesso che, ripeto, io ho sempre la mia convinzione che è una di quelle cose che è destinata a durare così, insomma. Che calcio è questo? Un calcio dalle spese folli, un calcio dai tanti sgarbi, da una situazione particolare? E poi se penso che magari ogni tanto c'è del retaggio riguardo ai tifosi del Verona, da settembre hanno chiuso forse le curve di Mezzitalia, se ne sta discutendo ancora adesso, e quindi forse è anche il momento di dire magari anche bravi ai tifosi del Verona e ricordare anche Leo, quel ragazzo che naturalmente sta cercando di tornare a una vita più normale possibile. Certo. No, io credo che questo sia stato, ma è stato recepito, se non se ne parla, che giustamente siamo qua, però a livello nazionale è stato recepito il fatto che una società come il Verona, con dei buoni propositi, in un anno e mezzo è riuscita a fare, non tanto credo nel popolo veronese, perché c'era già questo tipo di consapevolezza, che quindi non è vero quello che magari tanti anni fa è successo, quindi la testa è cambiata, ma credo soprattutto a livello sportivo abbiamo fatto capire che i veronesi sono un popolo molto attaccato alla propria società, ma che sono corretti, sono corretti nei confronti di quello che sono sempre state le problematiche di questo calcio, quindi razzismo oppure cori particolari, e torno a ripetere, è un altro successo, se vogliamo anche questo, della società che ha fatto capire, e Verona è stata brava a recepire, e speriamo di continuare in questo modo, che oggi chi sta vincendo è Verona, non le altre curve, quindi questo ci deve essere un grande merito, un grande onore per chi oggi è di Verona o è tifa Verona. Cosa succede a gennaio? Hai già messo giù un piano con Sean? No, abbiamo fatto sì chiaramente dei ragionamenti, quello che si cerca di fare è di migliorare quello che oggi è già un buon risultato, perché comunque abbiamo, lo dico con grande amarezza, tanti giocatori che non hanno dimostrato il loro valore, che noi sappiamo che ce l'hanno, e magari delle volte leggo anche io qualche critica da parte vostra, o magari qualche tifoso, qualche blog, non lo so, che tira sententi su giocatori che invece onestamente non sono così, e se siamo arrivati oggi a questo punto, e il mio punto è quello chiaramente di salvarsi, ma con la consapevolezza che possiamo fare qualche cosa in più fatto bene, e proprio perché questo qua è un gruppo non solamente nei piedi sano, ma anche nella testa, perché se no certe cose non succederebbero. Chi è il giocatore, per esempio, che non ha dato quello che magari ti aspettavi, o che si aspettava dei tifosi? No, io credo che sia, non c'è un giocatore che magari poteva dare di più e non l'ha dato, nel senso che non ha avuto modo di mostrarlo, perché magari in questo momento le scelte del mister sono cadute da un'altra parte, però voglio dire, mi viene da dire Sala, io cerco sempre i giovani, è uno di quei giocatori che ha fatto vedere 5 minuti, che può giocare al calcio come Siriliano, in una Serie A, perlomeno come Verona, e proprio non ha trovato la maniera di avere spazio, poi nel caso di Siriliano, poverino, nel momento in cui poteva trovarlo, si è fatto male, quindi abbiamo anche queste sfortune, però ripeto, andiamo oltre, sappiamo che ci sono, ma io posso dirvi anche qualche, chiamiamolo vecchio, tipo Donadel, che ha giocato pochissimo, si sta comportando benissimo, veramente un gruppo che sta dando una mano, credo anche in questo senso al mister, per tenere calmi gli animi, di 30 giocatori, che purtroppo, ripeto, si gioca in 11, questo è un grosso problema. Senti, chiudiamo un po' con gli auguri al popolo veronese, auguri anche nel ricordo, credo, di Giovanni Martinelli, perché se senti oggi qui è anche merito di Giovanni Martinelli. Sì, sì, beh, sicuramente, l'ho detto l'altra sera, la cena sociale è stata la prima cosa che ho detto, il ricordo a Martinelli, perché giustamente non c'è più, è il primo Natale che non c'è, io quando ci siamo conosciuti, quando ci siamo incontrati, più che conosciuti ci conoscevamo già incontrati per questa cosa qua, ripeto, ci abbiamo messo 5 minuti perché lui ha capito lo spirito che volevo io, che cosa volevo fare io e quindi non ero venuto qua per fare, non so, diciamo, per farmi vedere o per avere scopi alternativi. La passione del calcio è tante, è forte, io quello che posso dire da parte mia ai tifosi veronesi che io mi continuerò a impegnare per quello che sono le mie possibilità e la mia capacità manageriale per fare sempre in modo che questa società abbia il futuro più prospero possibile. Sei contento di questi 26 punti? Anche l'incontentabile Setti è contento? Potevamo avere qualche dunia in più, dico la verità, però è chiaro che come tutte le cose ci sono di dare e avere, quindi credo che questo tipo di compensazione magari quando siamo a maggio l'avremo più chiara. Oggi credo che, non lo dico perché voglio, anzi no, lo dico perché voglio stimolare i ragazzi a fare sempre meglio perché ogni tanto Luca, che è quello che ha un pochino più, diciamo così, il coraggio di venire a controbattere, dice che è una roba che è immaginabile di tutto quello che vuoi avere, però visto queste partite, visto il gioco che hanno espresso le altre squadre, visto l'andamento anche di certe big che onestamente in termini tecnici dovrebbero essere davanti e così, io dico che se continuiamo a correre non è poi così uno scandalo.